Gentili telespettatori, buona giornata. Quello che dice la Meloni sulle pensioni è corretto? Allora, la Meloni dice che in questi due anni abbiamo lavorato per una rivalutazione piena di tutte le pensioni che arrivano fino a 2270 euro, garantendo che fossero adeguate pienamente al costo della vita. Abbiamo fatto una rivalutazione al 120% delle pensioni minime che sono cresciute in modo significativo. Lo abbiamo fatto facendo crescere di meno le pensioni che erano molto alte. Questa ricostruzione è assolutamente corretta. Con la legge di bilancio del 2023 il governo Meloni ha stabilito che le pensioni fino a 2100 euro lordi aumentassero del 7,3% sia per l'intera percentuale stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a fronte dell'aumento dell'inflazione. In più ha stabilito che le pensioni minime, quelle all'epoca fino a 525 euro, aumentassero dell'8,8% con una rivalutazione quindi del 120%. Tutte le pensioni con un valore superiore a 2100 euro sono aumentate ma con percentuali via via decrescento. In questo caso è successo anche poi nel 2024 dove le pensioni fino a 2100 euro lordi sono state aumentate del 5,4%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.